Il campione del mondo Fabrizio Vallone, terrasinese dei 10.000 metri alle Olimpiadi in Polonia, è stato accolto in aula a consigliare la presenza dei consiglieri comunali, dei rappresentanti della consulta dello sport delle società sportive di Terrasini. Le istituzioni e la comunità sportiva insieme per abbracciare e congratularsi con grande emozione con l'azzurro Fabrizio e la sua famiglia per i tanti sacrifici fatti negli anni e per i grandissimi risultati raggiunti. Abbiamo ricevuto il nostro concittadino campione del mondo Fabrizio Vallone, è stato veramente un piacevole lo riceverlo nella casa comunale insieme ai consiglieri comunali, insieme alla giunta, così come insieme alle associazioni sportive, alla federazione e alla società civile. Tutti abbiamo dato il nostro grande applauso e merito a lui, al suo staff, all'allenatore e soprattutto alla famiglia per il grande sostegno a questo ragazzo che ha raggiunto in questi anni tantissimi traguardi così importanti. È un vanto per la nostra comunità, è un vanto per l'intero territorio, è un vanto per la nostra Sicilia avere un campione di tale portata. Stiamo cercando di continuarlo a sostenerlo per questo impegno e facciamo a Fabrizio e ai suoi familiari un mondo di auguri.